Carmine Ferrara in mostra con alcune opere da sabato 29 luglio a Livorno. Nell'ampio panorama dell'arte astratta ecco un artista che combina colori vibranti e un segno audace, creando opere cariche di energia ed emozione. Una pittura astratta espressionista dai colori forti che dominano le sue tele, sprigionando una grande vitalità. Si incontrano sfumature ardenti di rosso, che catturano l'attenzione con la loro intensità passionale. I blu evocano un senso di profondità e mistero. Il giallo vibrante irradia gioia e vitalità, mentre il verde intenso crea una sensazione di freschezza e crescita. Questi colori si mescolano in una danza cromatica che coinvolge lo spettatore in un turbine di sensazioni. Il segno deciso e i tratti dinamici e incisivi catturano l'istante stesso in cui l'artista traduce le sue emozioni. in un linguaggio visivo. Il pennello lascia una scia di gesti, le linee audaci si intrecciano e si sovrappongono, creando una composizione vibrante e complessa. In questa occasione saranno esposte due opere diverse tra loro. La prima appartiene ai cicli classicamente tipici dell'artista, mentre la seconda appartiene ad una serie minimalista, che si distingue dal suo caratteristico modo di esprimersi, ma che racchiude ancora le caratteristiche distintive del suo lavoro. Queste opere si avventurano nell'essenziale, nella semplicità del contrasto da due colori. Le linee pulite e precise si fondono armoniosamente con lo spazio vuoto, creando una composizione che cattura l'attenzione e invita alla riflessione. Apparentemente semplici, continuano a comunicare l'intensità delle emozioni e delle idee dell'artista.